amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati lunedì 21 ottobre iniziamo come sempre la settimana del vaso di pandora con gli approfondimenti l'analisi dei principali temi di politica internazionale e quindi l'argomento del giorno di questa giornata e di questo inizio settimana sono sicuramente le elezioni politiche in Moldavia con Maya Sandu premioscente che andrà al ballottaggio e al referente un consuntivo per l'entrata in Unione Europea qui ci saranno parecchie cose da dire sicuramente e poi passeremo al Medio Oriente con l'attacco alla villa di Netanyahu l'uccisione di Sinwar leader di Hamas e tutti gli approfondimenti del caso assieme anche al conflitto ucraino dove partiremo con un aggiornamento della situazione sul campo potrei dire alla faccia del piano per la vittoria di Zelensky ti presento subito i miei ospiti benvenuto come sempre Stefano Orsi ciao Stefano ciao Carlo buongiorno a tutti e ricordo naturalmente sempre collaboratore della rivista Il Sudeste del blog Sacher Italia e Lettera da Mosca autore dell'omonimo canale YouTube che ormai è arrivato a 50.000 mi sembra no? quasi quasi allora bastano gli ultimi meno di 400 meno di 400 va bene magari magari vediamo con oggi di arrivare alla soglia fatidica dei 50.000 e benvenuto veramente ben ritrovato a Fulvio Scaglione ciao ciao buongiorno e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano giornalista direttore di Inside Over già vice direttore di Famiglia Cristiana autore del libro Zelensky l'uomo e la maschera per me i temi che vediamo qui in sovraimpressione e avremo occasione di parlare del libro quando fra poco parleremo della eccoci qua Stefano che viene in soccorso mostrando la copertina e quando parleremo fra poco del conflitto russo-ucraino YouTube ha censurato per la seconda volta a Giacomo Gabellini un'intervista del suo canale Il Contesto e ha imposto di non pubblicare video sempre sul suo canale per una settimana Giacomo però è attivo anche su altre piattaforme alle quali vi invito ad iscrivervi e sono il sito www.ilcontesto.it e il canale Telegram Il Contesto trovate i link nel testo qui sotto in descrizione Giacomo non sarà qui con noi questa settimana ma lo sarà nuovamente già dalla prossima ecco vi ricordo e vi caldeggio veramente di iscrivervi al sito e al suo canale Telegram questa è la fase storica siamo immersi nella censura e dobbiamo fare i conti con questa volenti o nolenti questa è la fase storica Stefano iniziamo con l'argomento del giorno le elezioni politiche in Moldova e il referendum consultivo allora la situazione sul referendum si è completamente ribaltata dall'inizio dello spoglio delle schede alla sua ultimazione sì innanzitutto i dati principali riguardavano la presidenza maia sandu ha ottenuto il 41 e qualcosa per cento di consensi il candidato dell'opposizione mi sembra il 26 27 quindi c'è un certo distacco che sembra incolmabile il problema però è che nel frattempo avevano avviato anche voluto un referendum sulla Unione Europea che sebbene il voto che è emerso poi alla fine dello scrutinio per poche migliaia di voti abbia dato il suo assenso alla modifica della Costituzione quindi un sì all'ingresso della Moldavia all'Unione Europea politicamente però aver vinto per pochissimi voti così soprattutto anche grazie esclusivamente ai voti esterni cioè quelli del voto all'estero che in massa hanno votato con percentuali a dir poco bulgare per il sì ecco avrebbe perso se fosse stato basato solo sui voti all'interno della Moldavia in maniera anche abbastanza netta sembra no anche? abbastanza no di qualche punto percentuale sì questo significa però il dato politico che ne ricaviamo è che è una sconfitta pesantissima per l'Unione Europea che tanto ha investito in questi anni in immagine e in ONG che operano sul territorio moldavo al fine di propagandare proprio il caso di dirlo l'Unione Europea all'interno della società moldava questo è però il dato se nonostante tutto ciò che è successo e che hanno fatto il risultato è questo è una sconfitta clamorosa a livello politico sentiamo Fulvio Scaglione facciamo il primo giro di analisi prego ma io concordo con quello che ha detto Stefano aggiungo questo fatto che sostanzialmente il destino della Moldavia reale cioè quella che è ai confini con l'Ucraina la Transnistria cioè del paese reale viene deciso a pieno diritto però è una situazione paradossale viene in realtà deciso da chi di quel paese reale in quel paese reale non vive e non ha alcuna intenzione di tornarci a vivere io parlavo con una giovane, simpatica, giovane signora moldava venerdì sera che è in Italia da vent'anni e che mi ha detto che sarebbe andata regolarmente a votare ovviamente non mi ha detto per chi e io non ho chiesto che però con questa signora a parte l'aspetto sentimentale c'è ancora dei parenti lì in una zona peraltro tranquilla lontana dalla Transnistria eccetera eccetera però con la signora non c'entra niente con la Moldavia con la Moldavia intendo dire in carne e ossa, concreta vive in Italia sta bene in Italia ha un ottimo lavoro in Italia e come lei tutti o quasi tutti quelli che poi hanno deciso questa votazione il che è greco Fulvio, dico la butto lì magari avrà dato una mano come voto alla Moldavia entrare nell'Unione Europea visto che è un affare magari la butto lì non lo sappiamo giustamente tu hai detto non ho chiesto lei non mi ha detto io non ho chiesto quindi se vogliamo la butto lì è una persona che è venuta in Italia lei a un certo punto mi ha fatto questa battuta che quando è arrivata in Italia dice io ho fatto anche dei tratti a piedi dalla Moldavia all'Italia quindi immagino che non sia partita con le valigie zeppe di banconote però è in Italia se è inserita sta bene in un bel posto ha un bel lavoro posso tranquillamente immaginare che sia favorevole all'ingresso della Moldavia nell'Unione Europea d'altra parte diciamocelo i paesi dell'ex est che sono entrati nell'Unione Europea oggi stanno molto meglio di prima su questo non c'è alcun dubbio quindi che il sentiment di chi ha sperimentato questa cosa sia di andare verso verso l'Unione Europea non deve sorprendere quello che però resta è che c'è una Moldavia in larga parte virtuale che sta all'estero e che decide col proprio voto perché sono più gli elettori moldavi all'estero di quelli in patria e col proprio voto decide la sorte di quelli che stanno dentro quelli che stanno fuori decidono la sorte di quelli che stanno dentro perché se non sbaglio se ho letto correttamente se i risultati non sono cambiati delle quattro regioni moldave nelle quattro regioni solo in tre delle quattro regioni solo in una delle quattro regioni moldave ha vinto il referendum pro Europa quindi diciamo c'è una moldavia reale che la pensa in un modo e c'è una moldavia semi-virtuale che la pensa in un altro questa è una situazione tra l'altro la maggior parte di quelli che sono fuori dalla moldavia la pensano in maniera diversa hanno inciso in maniera determinante sul voto mentre l'Unione Europea di fatto diciamo che è già dentro la moldavia perché parlavo stamattina con un referente un amico che da alcuni anni vive in moldavia una persona italiana e mi mandava tutta una serie di foto perché dice l'Unione Europea di fatto appunto è già dentro perché praticamente finanziano tutta una serie di infrastrutture eccetera e mi mandava le foto proprio di semafori panchine e quant'altro che hanno proprio la targhetta dell'Unione Europea iniziative culturali e quant'altro Stefano ti risultano? Sì ci sono tutte queste iniziative così come anche e parimenti all'Armenia ad esempio alla Georgia ci sono stati finanziamenti a pioggia a molte ONG che operano poi a livello di società impiegando anche persone creando reti di lavori di contatti di anche piccoli guadagni che comunque servono e sono finalizzati all'influire nell'opinione pubblica della Moldavia in questo caso anche a livello di media nel senso che tempo fa vedi proprio un documentario in cui veniva spiegato il lavoro di alcune ONG finanziate direttamente dall'Unione Europea che avevano la finalità di combattere la propaganda russa in che cosa consisteva la propaganda russa semplicemente che i cittadini di diverse province almeno un paio di province della della Moldavia seguono regolarmente in lingua russa televisioni telegiornali da televisioni russe ecco e questo per loro era un'ingerenza chiaramente invece non veniva percepita o spiegata come ingerenza il fatto che l'Unione Europea finanziasse delle organizzazioni che avevano semplicemente la funzione di fare loro stesse un'ingerenza nella società moldava al fine di influenzarla ecco c'è questa percezione strana per cui ciò che è lecito a Giove l'Unione Europea non deve essere lecito agli altri ecco sì c'è già quindi hanno già adottato all'interno dell'Ucraina Fulvio Scaglione il cosiddetto doppio standard occidentale no? è lecito se è una parte gradita non è lecito anzi magari è reato addirittura se sono delle cose non gradite ma questa è una vecchia storia invadere l'Iraq è un'operazione di liberazione qualcun altro invade qualcos'altro è una violazione palese dei trattati internazionali però questo discorso che facevate che faceva Stefano è interessante perché perché segnala comunque da questo punto di vista secondo me è una difficoltà oggettiva della Russia la Russia non è capace di esercitare veramente un soft power il soft power per la Russia è tipo ti mando mille carri e poi vediamo come va a finire adesso io scherzo esagero naturalmente il soft power è esercitare le istituzioni occidentali e questo è successo è successo dappertutto perché Maya Sandu è un ex ha studiato in occidente è un ex funzionario di istituzioni occidentali ed è diventata presidente della Moldavia ma se noi guardiamo alla Georgia dove si sente dire tutti i giorni per via della legge sulle persone LGBT per via della legge sulle ONG che c'è l'influenza russa che i russi fanno questo fanno quello si ingeriscono nella politica georgiana eccetera eccetera ma in Georgia io non so se qualcuno si rende conto c'è un presidente della Repubblica che in un anno che adesso non cito che è una francese che ha lavorato per i servizi segreti francesi che è diventata ambasciatrice di Francia in Georgia che quando c'era Saakashvili è stata presa ha smesso di fare l'ambasciatrice ed è diventata dall'oggi al domani ministro degli esteri della Georgia e adesso è presidente della Georgia voglio dire immaginiamoci che adesso la Georgia non so non riesco a fare un paragone con un paese europeo diciamo in posizione strategica e di media diciamo la Svezia è il Belgio non lo so che un ambasciatore russo viene preso smette di fare l'ambasciatore della Russia e diventa ministro degli esteri del Belgio e poi diventa presidente del Belgio cioè non so se a me sembra una roba surreale quasi una ma in Ucraina è successo la stessa cosa in Ucraina quando c'è stata la presenza del Dipartimento di Stato americano cioè è una però ecco detto questo segnala comunque oggettivamente una come dire ecco diciamo che l'Occidente è capace di esercitare un soft power vero la Russia molto meno a dispetto di tutto questo concordo col fatto che questo voto Moldavo che spacca la Moldavia in due il doppio voto che spacca la Moldavia in due vuol dire che proprio c'è una percentuale di popolazione moldava che non che non cevo sta come dicono a Roma di questa cosa di spostarsi verso ovest eccetera eccetera ha torto ha ragione possiamo pensarla come vogliamo ma se si vota si vota ogni testa è un voto e c'è una larga di pochissimo minoritaria percentuale di Moldavi che preferiscono la vecchia moda ecco si è un paese spaccato in due Stefano l'informazione libera e indipendente non è mai stata così importante al vaso di Pandora ci impegniamo ogni giorno per fornirti analisi approfondite rubriche esclusive e interviste senza filtri lontane da ogni forma di propaganda sostenere un'informazione di qualità è fondamentale per mantenere viva una voce indipendente con il tuo abbonamento ci aiuti a continuare questa missione e a migliorare il servizio che ti offriamo abbonati oggi su ivdp.it e unisciti alla nostra famiglia di ascoltatori consaprivoli insieme possiamo promuovere un'informazione di qualità è oltretutto che nel paese quelli che vivono nel paese sono la maggioranza che è il ragionamento che ha fatto prima Fulvio sul paese reale cioè coloro che vivono e devono sopravvivere anzi in Moldavia perché in molti casi è un paese il più povero credo a parte l'Ucraina adesso che è pure in guerra i provvedimenti del governo Sandu hanno preso causato degli aumenti esponenziali dei costi ad esempio dell'energia perché ha rifiutato tutti gli accordi con la Russia ha preferito comprare il gas dall'Unione Europea a dei costi enormemente superiori e questo chiaramente però si è scaricato tutto sulle magre finanze dei cittadini il malcontento alla fine delle fini nonostante tutti gli investimenti dell'Unione Europea nasce dal fatto che fino adesso per la gran parte dei cittadini moldavi l'Unione Europea ha rappresentato un peggioramento della loro condizione di vita che già prima non era eccezionale poi chiaramente quelli che vivono al di fuori della Moldavia stanno meglio di loro ma questo non significa che questi che ci vivono siano contenti l'ingresso nella Moldavia per una parte ristretta della società significa lauti guadagni perché la Moldavia entrando nell'Unione Europea diventerebbe un oggetto di investimenti di flussi di danari presi da altri paesi che sono invece contributori netti e che quindi godrebbe di riceverebbe molto più di quello che può dare all'Unione Europea è quello il punto per la Moldavia l'entrata in Unione Europea visto la situazione di paese è considerato appunto il paese più povero probabilmente attenzione per pochi non è per tutti solo pochi ci guadagnano sopra ecco volevo appunto capire per la Moldavia sarebbe un affare l'entrata nell'Unione Europea ma rispetto alle condizioni in cui ha vissuto negli ultimi decenni di sicuro per poco che migliori è stato il paese più povero d'Europa quindi anche se diventasse solo il secondo paese più povero d'Europa diciamo c'è brutto scherzare c'è un miglioramento però ecco poi c'è una c'è una considerazione da fare che sicuramente per come è messa adesso l'Unione Europea con questa con questa corsa riarmo questa preoccupazione generale e con questa sovrapposizione dei confini dell'Unione Europea con la Nato con i confini della Nato la Moldavia sarebbe oggetto di notevolissimi investimenti anche dal punto di vista della difesa dal punto di vista militare perché in una posizione tale e quindi anche questo probabilmente contribuirebbe a innalzare un pochino il livello di vita Sì Stefano con queste prospettive nonostante tutto è stato un pareggio insomma tra rimanere fuori dall'Unione Europea e e e e volerci entrare ripeto sempre un referendum consultivo ma sicuramente avrà un peso notevole la Russia l'ha un po' trascurata l'ha lasciata un po' andare secondo te la Moldavia o sono altre le 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 ragioni secondo te dunque bisogna valutare che la Russia dal 2014 è oggetto di pesanti sanzioni che le proibiscono di fatto anche di poter aiutare in qualche modo diretto di fare quel famoso soft power perché di fatto non ha possibilità di avere un collegamento diretto con la Moldavia è già stato un problema in passato credo far ruotare quei soldati dell'unità di interposizione ora è impossibile da 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 un po' di tempo figuriamoci riuscire ad agire come supporto economico o materiale al paese o anche solo alla Transnistria per Nestrovie per capirci non credo che possa fare più di tanto al momento il problema però è che nonostante ciò e nonostante le accuse credo campate in aria da parte della della Sandu che dice ah ma c'erano è andato male così abbiamo rischiato di perdere poi bisogna vedere se 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 hanno vinto davvero loro o meno perché quando i margini sono così ristretti non è mai tutto chiaro resta comunque il fatto che loro denunciassero dei brogli in genere la gallina che canta di solito ha fatto l'uovo come spesso abbiamo sentito gli Stati Uniti quando accusano gli altri di qualcosa in genere hanno la coscienza sporca e l'hanno fatta loro ecco perché si stanno guardando allo specchio esattamente e in questo caso forse la Maya Sandu che era cittadina americana se non sbaglio prima di diventare o era sì mi sembra di sì qualcosa deve avere imparato ecco nella gestione di questa di questo mi balla mi balla incredibilmente il video ah ecco si è fermato meno male no si era messa di colpo a traballare le immagini non ho capito come mai tutto ripristinato tutto ripristinato tutto ripristinato prego ecco questo questo per me è il problema grosso effettivamente come ha detto giustamente Fulvio la Russia non ha nella sua mentalità quelle astuzie e quell'organizzazione nel gestire e nell'interferire nell'ambito della cultura popolare come invece l'Unione Europea attraverso le ONG riesce a fare da questo punto di vista per cui il malcontento della popolazione è tutto credo che sia tutto naturale sia tutto naturale e Fulvio ci saranno ci saranno valuteranno se ci sono stati i brogli terranno risultato quantomeno del referendum quello che è secondo te perché qui ci si accusano vicendevolmente la Sandu ha detto ci sono stati ingerenze incredibili da parte della Russia ovviamente dall'altra parte stessa cosa ma io credo che non faranno poi nulla alla fine a parte un gran vociare come sempre perché comunque che cosa fanno invalidano il voto e non credo che alla Sandu convenga ritentare colpo e credo che le convenga di più concentrarsi a questo punto portato a casa il referendum consultivo anche nella maniera che sappiamo anche se con una sostanziale sconfitta perché io sono convinto che la Sandu si aspettasse non dico una valanga ma comunque un'onda favorevole che ecco credo che si concentrerà sulla rielezione alla presidenza che è sicuramente nelle sue possibilità ma anche qua se le opposizioni diciamo chiamiamole così come le chiama diciamo il mainstream parola che a me non piace ma che comunque per intenderci internazionale le opposizioni filorusse si unissero in nome di una comune battaglia anche lì rischierebbe di essere rieletta ma con un margine così sottile da far comunque da mettere in qualche modo sotto tutela il suo secondo mandato presidenziale insomma in conclusione io credo che la chiuderanno qui e buonanotte sì Stefano la pensi anche tu così assolutamente sì oltretutto rimarcherei il fatto che probabilmente lei si aspettava unendo tra l'altro la ricandidatura al referendum per entrare nell'Unione Europea di ricevere una sorta di pieno di voti ecco e di essere eletta al primo turno invece non è riuscita neanche a fare quello altro motivo per cui c'è da valutare politicamente il risultato dei seggi c'è da valutare politicamente il risultato dei seggi dicevamo che potrebbe essere un già un passo avanti diventare il secondo paese più meno povero diciamo dell'Unione Europea per la Moldavia potrebbe già essere quello perché si diceva che nelle condizioni attuali probabilmente in questo momento il paese più povero è la causa di questa guerra che dura da oltre due anni e mezzo l'Ucraina veniamo appunto al teatro del conflitto ucraino Stefano come ci fai un aggiornamento veloce sulla situazione sul campo alla potrei dire alla faccia del piano per la vittoria di Zelensky allora sì guarda è molto facile posso dire che su tutti i fronti l'iniziativa è in mano ai russi sui nostri media non si sente più parlare dell'operazione a Kursk e questo perché la seconda invasione di cui aveva scritto Di Feo si è risolta in un nulla di fatto e sono stati ricacciati oltre il confine l'operazione di Kursk invece vera proprio il primo saliente è stato separato in tre sacche e da quelle adesso i soldati ucraini vengono via a piedi con difficoltà accompagnati spesso dall'artiglieria russa nel frattempo la Russia recupera villaggi su villaggi ne ha recuperati tre in tre giorni e credo che non sia proprio una cosa da poco l'ultimo Kolmakov oggi che è una piccola frazione ma è molto vicina a Sugja il che dice che i russi vanno allo scontro per prendere l'unica cittadina che gli ucraini erano riusciti a conquistare e poi sugli altri fronti la situazione non è bella a Karkov si combatte sempre pesantemente però non avanza né uno né l'altro ci sono scambi feroci di artiglierie di bombe soprattutto da parte russa il fronte più attivo o comunque molto attivo è il fronte tra Kupians e Kremennaia dove i russi stanno guadagnando in vari punti del fronte segnalo principalmente quella che è un villaggio parecchio importante Kruglia Kovka perché presa e conquistata quella chiudono i russi la via per i rifornimenti a sud delle forze ucraine che devono poi persa questa località rifornirsi da molto più a sud verso nord con un percorso molto più lungo in questo caso metterebbero in grave difficoltà le unità li presenti poi verso Chasoviar abbiamo visto come i russi hanno riattivato il fronte stanno avanzando su Toretsk hanno preso ormai più della metà della città si avviano ormai verso la piena conquista e da lì arrivano direttamente a Kostantinovka perché è più sotto come quota sia da Chasoviar che da Toretsk il fronte di Pokrosk è un fronte strategico di elevatissima importanza a causa del valore di due città Mirnogrod e Pokrosk e del settore industriale soprattutto estrattivo di carbone in quel particolare territorio ma fino a Kurakovo dove c'è ad esempio una delle poche centrali termoelettriche ancora attive in Ucraina il fronte è tutto sotto l'iniziativa piena da parte russa che nei giorni scorsi ha conquistato altri villaggi tipo Zoriane oppure Maximilianovka avvicinandosi moltissimo credo che disti adesso due chilometri e mezzo il fronte proprio dalla periferia di Kurakovo quindi ormai sono lì ecco più a sud sembra che abbiano perso anche Katerinovka perché non credo che si sia realmente allontanata la 79esima biotrasportata Ucraina che combattono con notevole determinazione li seguo da vicino da tempo la 72esima invece brigata Ucraina che difendeva Ugledar è dovuta ripiegare e poi anche il fronte di Zaporozhia vede le formazioni russe aver ripreso l'iniziativa e tentare avanzate anche in questo settore non è una bella situazione per gli ucraini stanno impiegando molte risorse che in molti casi non hanno e ne stanno perdendo altrettante ecco il problema è che da parte occidentale non si sente dire abbiamo la possibilità di fornirvi altre centinaia di carri armati qualche altro migliaio di mezzi blindati o da esplorazione vi forniamo hanno più paradossalmente hanno più aerei ma gli mancano i piloti adesso gli ucraini perché gran parte sono morti di gran parte non sanno l'inglese e ci mettono una vita a imparare stanno cominciando ad addestrare figure che non hanno addirittura mai usato un aereo quindi quelli già esperti li stanno già utilizzando insomma eh sì non è una bella situazione e in più oggi Austin Lloyd Austin il capo del Pentagono inaspettatamente si è recato a Kiev guardando indietro a questo tipo di iniziative in genere preludevano a qualche azione clamorosa da parte ucraina penso agli attacchi in profondità nel territorio russo bene inteso eh gli ucraini hanno già i droni che possono attaccare a mille chilometri di distanza o più nell'entroterra non hanno neanche bisogno dei missili eh a lunga gittata eh da 300 500 chilometri che gli può fornire la Nato eh in realtà è il solito espediente con il quale loro pensano di poter eh cambiare le sorti del conflitto e in realtà non cambieranno assolutamente nulla lo dico anche tristemente perché è morta tanta gente sì ecco questa è proprio la eh Fulvio Scaglione l'arrivo a Kiev del segretario della difesa americano Lloyd Austin prelude a qualcosa di di grosso di significativo come ipotizzava o come ha richiamato poco fa Stefano nei precedenti ma eh Stefano diceva ipotizzava che fosse legato all'autorizzazione a usare i missili americani a lunga gittata per colpire in profondità il territorio russo eh io non saprei dire ci va ci va tanta gente a Kiev non so se è diventata una una meta molto molto trafficata non so dire se c'è qualcosa in ballo oppure se sia un incontro di routine eccetera eccetera quello che mi pare assodato è che Zelensky è andato negli Stati Uniti personalmente da Biden a presentare il piano per la vittoria e poi è presentato in giro per l'Europa anche questo piano e ovunque ha raccolto mi pare a meno che non ci siano dei segreti ovviamente che non vengono rivelati né a me né ad altri non ci siano non mi pare dicevo che abbia ottenuto dei grandi risultati mi pare che questo piano per la vittoria abbia incontrato grande freddezza d'altra parte solo la Francia forse mi sembra che abbia rilasciato delle dichiarazioni favorevoli se ho letto bene e mi ha lasciato anche un po' stupito la cosa in effetti diciamo che una buona parola non si nega nessuno ecco ma voglio dire il piano per la vittoria di Zelensky che cosa prevede l'ingresso rapido se non immediato dell'Ucraina nella Nato e gli hanno detto no l'ingresso rapido se non immediato dell'Ucraina nella UE e non se ne parla l'autorizzazione usare i missili a lunga gittata e questa autorizzazione per ora non c'è e più soldi più armi e questo questo c'è perché fornire armi e fornire soldi tanto combattono gli ucraini non è un business poi il misterioso deterrente non nucleare di cui ha parlato tra altre cose la deterrenza non nucleare di spiegare sul territorio ucraino cioè un paese in guerra che deterrenza può avere è già in guerra sì ma io credo che questo faccia parte della necessità che ha Zelensky anche di tenere il fronte interno perché deve pur spiegare ai suoi che si continua a combattere si continua a morire che tutti i discorsi di un tempo e ripeto io non è che con questo condanno Zelensky perché fa il suo mestiere come dire cioè in quella data situazione lui deve fare queste cose qua però certamente raccontare agli ucraini dopo tutto quello che è successo e quello che sta succedendo che sono sulla strada di andare a riprendersi i confini del 1991 di recuperare la Crimea di recuperare i territori occupati dai russi mi sembra è un prodotto un po' difficile da vendere diciamo così e in più secondo me c'è questa operazione su Kursk che dal punto di vista politico intendiamoci dal punto di vista militare l'ha già spiegato benissimo Stefano andrebbe un po' come dire analizzata andrebbe un po' meglio capita perché a quanto pare quello che si è detto Zelensky ha varato questa cosa con i suoi vertici militari senza informare nessuno prima questa è la vulgata senza informare io sono molto scettico perché tutte le operazioni secondo me che gli ucraini possono di questo genere che possono mettere a segno non possono fare a meno dell'intelligence occidentale dei satelliti occidentali eccetera eccetera allora il problema è che questa operazione al momento al momento salvo novità eclatanti è è stato un grande azzardo un azzardo anche diciamo che ha molto affascinato i nostri osservatori ma è finito malissimo perché avrebbe avuto un senso se fossero gli ucraini fossero arrivati a prendersi la centrale nucleare di Kurchatov che è questo centro vicino a Kursk in modo da avere un gettone da buttare sul piatto importante esattamente come i russi hanno la centrale di Energorad Zaporogia ma questo non è riuscito e il risultato qual è? che gli ucraini si sono messi hanno impegnato le truppe migliori e i mezzi migliori in questa impresa e adesso continuano a perderli perché se il calcolo era noi entriamo qui e i russi si ritirano dal Donbass il calcolo ha prodotto l'effetto opposto perché loro sono entrati lì sono stati fermati vengono logorati giorno per giorno perdendo uomini e mezzi hanno già perso metà del territorio che avevano conquistato il 6 agosto cioè si stanno ritirando detto in una maniera più esplicita e non hanno ottenuto nessuno degli scopi né militari né politici che si erano prefissi ora io non non so a me pare che Zelensky essendo il come si può dire il collo di bottiglia attraverso cui passano gli aiuti occidentali che poi vengono ridistribuiti soprattutto evidentemente alle forze armate ai servizi di sicurezza eccetera che mi sembra di poter dire che il potere di Zelensky è ancora abbastanza solido proprio perché si appoggia a questa cosa ma fino a quanto questa cosa potrà durare fino a quando perché se vivessimo in un mondo normale dove si dicono le cose così dove si è un mondo in cui si potessero dire cose normali che invece vengono considerate enormi quello che si dovrebbe dire è che a oggi salvo domani ribaltoni l'Ucraina non l'Ucraina ma l'Occidente ha perso la guerra l'Ucraina no perché l'Ucraina ci ha messo tutto quello che ci poteva mettere gli ucraini e l'Ucraina ma è l'Occidente che voleva usare i 250.000 uomini dell'esercito ucraino addestrati secondo i criteri nato per fiaccare la Russia meglio ancora per sonfiggerla sul campo umiliarla tagliarle le unghie spegnere tutte le sue velleità di imperialismo o di costruzione di un nuovo ordine mondiale e non ci è riuscito quindi l'Ucraina ha combattuto una guerra e l'ha combattuta benissimo ammesso che insomma si possono usare questi termini enfatici per una cosa perché ha combattuto bene si è difesa bene cioè ha fatto tutto e anche di più di quel che poteva fare ma qui l'occidente ha perso la guerra e allora in un mondo normale questo si potrebbe dire e si potrebbe lavorare per trovare una soluzione dignitosa per l'Ucraina e per gli ucraini e anche possibilmente per far smettere di morire la gente perché questo succede ma questa cosa non si deve dire non si deve dire la von der Leyen recentemente ha detto in risposta a Orban ha detto non esiste un mondo in cui la parola pace può essere equiparata alla parola sconfitta ma che cosa vuol dire? che cosa vuol dire? cioè la von der Leyen è ancora convinta che se si combatte un altro anno la Russia crolla le sanzioni le fanno crollare la Cina smette di commerciare con la Russia l'Iran smette di dare i droni la Corea smette di dare le pallone cioè è convinta di vivere in quel mondo lì sì Stefano sono state una serie di riflessioni molto interessanti di Fulvio sì in particolar modo del pensiero di Orban mi ha colpito un ragionamento molto lucido e cioè per capire come poter cambiare la situazione dobbiamo iniziare a ammettere che stiamo perdendo ed è stata una presa d'atto di una situazione che coglie assolutamente nel segno le storture della percezione delle istituzioni europee di oggi che non ammettono neanche la possibilità di aver perso la guerra e che nonostante tutto ciò che è stato mandato che rappresentava tutto ciò che potevamo mandare oltretutto perché non c'è altro che si possa mandare a meno di non disarmare tutti i nostri eserciti sia ben chiaro perché alcuni paesi hanno dato anche quello che era dei loro eserciti le artiglierie alcuni carri armati semoventi e i mezzi e i mezzi e i mezzi a disposizione oltretutto noi abbiamo dato i pzh 2000 che erano in servizio e non ne abbiamo tanti abbiamo dato le batterie antiaeree questo farei una riflessione ancora più a monte non sono in grado di ammettere di aver perso la guerra e ancora più a monte non sono in grado di riconoscere di aver sbagliato i calcoli la valutazione ma infatti arrivavo appunto a questo discorso e cioè il fatto che il problema a monte di questo discorso della von der Leyen principalmente che io non avrei mai rieletto dopo ciò che si era presentata a dire in Parlamento e che i fatti avevano smentito in maniera clamorosa una presidente che si era presentata a dire che tutte le industrie belliche russe erano ferme e che quindi avrebbero finito i missili avrebbero finito i carri armati avrebbero finito gli aerei invece non solo non erano ferme quelle militari ma producevano anche le linee civili il superjet 100 e altro che è stato convertito a prodotti tutti interni alla Russia noi abbiamo una mentalità dei paesi delle istituzioni europee fortemente vincolata a un suprematismo occidentale che è la mentalità di dire noi siamo il culmine dell'evoluzione democratica e culturale del mondo e quindi non possiamo perdere perché gli altri sono i barbari quindi non possono avere la meglio su di noi e se noi mandiamo ciò che possiamo mandare li schiacciamo e non è stato così assolutamente perché perché o avevano le informazioni sbagliate o non credevano magari a ciò che gli è stato detto resta il fatto che se ti interrompo c'è anche un altro fattore che della Russia occuparsi seriamente della Russia sono pochissime le persone è vero è verissimo e quei pochi non ascoltati oltretutto è la fiera del luogo comune è la fiera del luogo comune cioè tu basta che dici che Putin è un dittatore un assassino e che i generali russi sono tutti cretini e scrivi su qualunque giornale ovviamente non produce cioè se questo è il livello dei blog su internet eh vabbè certo sì 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 no no ma è molto 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 interessante questo aspetto anche perché analizzi il mondo in questo senso del giornalismo dall'interno caro Fulvio senti Fulvio perché un libro come Zelensky l'uomo e la maschera eccolo qui lo vediamo in sovraimpressione di una figura che forse pian piano ma si avvia la parte finale diciamo della sua della sua carriera tra l'altro tra l'altro ricordiamo un un presidente decaduto decaduto dal 20 di maggio perché non è più non si sono tenute le elezioni quindi lui ufficialmente non sarebbe più in carica ma guarda il libro nasce nella mia testa proprio anche un po' per ovviare il problema che dicevamo prima cioè perché io ho visto mi è sembrato di vedere perlomeno un grosso buco informativo sul tema perché quando Zelensky è diventato presidente vabbè c'è stato questo scoppiettio di interesse perché era una cosa strana questo che faceva l'attore che diventa presidente poi noi avevamo l'esperienza di Beppe Grillo fresca quindi ci suonavano delle corde però poi nessuno se n'è più interessato poi è scoppiata è arrivata l'invasione russa è scoppiata la guerra e allora Zelensky è diventato un'icona è stato surgelato nel ritratto di il leader che combatte per noi il bastione antirusso eccetera eccetera però in realtà Zelensky è un personaggio molto interessante ma molto interessante con una vita molto interessante e soprattutto almeno dal mio punto di vista molto emblematica della vicenda ucraina il mio libro si occupa di Zelensky diciamo così dalla nascita all'invasione russa perché per una ragione molto semplice perché in controluce all'esperienza di Zelensky leggi l'Ucraina e viceversa naturalmente ma soprattutto perché lo Zelensky è meno noto diciamo così e quindi più più indagabile ti spiega lo Zelensky dopo lo Zelensky successivo lo Zelensky presidente lo Zelensky icona della resistenza della Russia e le sue decisioni eccetera eccetera se posso rubare ancora 30 secondi il punto vero più interessante secondo me dell'esperienza di Zelensky a parte certi particolari personali io non lo so quanti sappiano che Zelensky a 30 anni era milionario in dollari per dire una cosa io non so quanti sappiano in particolare anche questo personale che lui è di origini ebraiche come sappiamo ma ha sposato una cristiana ortodossa questo anche ci dà un'idea dell'Ucraina ma soprattutto il punto vero secondo me è che Zelensky esattamente come l'Ucraina a un certo punto ha deciso di diventare solo ucraino perché la sua natura intima la sua essenza è binaria lui è di fatto mezzo russo cioè ucraino di nascita di nazionalità ma russo di formazione di cultura ce ne sono due di Zelensky e a un certo punto ha deciso che di questi due per tutta una serie di ragioni affettive ma anche di convenienza personale ha deciso di scegliere diciamo la metà ucraina cito qualche piccolo dato Zelensky ha fatto i soldi lavorando con i russi e per i russi lavorando per la televisione russa lavorando per produttori russi cinematografici Zelensky ha girato il primo film in Ucraina con capitali ucraini nel 2018 cioè alla vigilia dell'elezione presidenziale Zelensky quando si è avviato alla campagna presidenziale ha preso lezioni di ucraino da un noto linguista di Kiev lui non parlava ucraino lui ha sempre parlato russo e quando ha avuto bisogno dell'ucraino ha dovuto farsi dare una rinfrescata ma questo non è che voglio dire con questo che Zelensky di Ucraina va spiegata va raccontata e quindi anche spiegata molto meglio di come è stato fatto con questi quattro slogan diciamo così perché altrimenti quello che tu fai se non fai così se non vai a vedere che cosa ha fatto realmente Zelensky se non vai a vedere che Kolomoisky a un certo punto gli ha staccato una segna da 25 milioni di dollari se non vai a vedere che lui il partito con cui poi ha vinto le elezioni l'ha registrato due anni prima delle elezioni e quindi aveva già in testa la carriera politica se tu non vai a vedere che le televisioni di Kolomoisky durante la campagna elettorale che trasmettevano a manetta tutti i suoi sceneggiati i suoi film sono arrivate a trasmettere sette ore al giorno sette di programmi con Zelensky dentro non capisci niente sostanzialmente e poi nel mio libro ci sono molte altre cose per esempio io non lo so questi che ti vogliono raccontare c'è stata un'intervista clamorosa su un giornale italiano il giorno dell'elezione o il giorno dopo dell'elezione di Zelensky alla presidenza in cui la moglie di Zelensky diceva ma è stata una cosa incredibile io ho scoperto che voleva fare questa cosa all'ultimo secondo sono anche arrabbiata ma come hai registrato un partito due anni prima di iniziare la campagna elettorale e poi vai a raccontare al mondo che così per dire ma questo non è per dire che Zelensky è buono o cattivo a me non interessa Zelensky io l'ho trattato come se fosse e che ne so Joe Biden come se fosse un politico qualunque però l'importante per me era toglierlo da questa da questa icona in cui è stato messo lì per questa narrazione certo che impedisce ormai di capire qualunque cosa e di capire l'Ucraina perché se se tu sai che Zelensky ha cambiato quattro ministri della difesa e cinque ministri della sanità prima dell'invasione russa capisci anche come mai poi ci sono tutte le purge nel governo ucraino dopo perché quello è il suo stile di gestione del potere tutte le volte che è stato in crisi Zelensky è scaricato su qualcun altro ma insomma è un discorso complesso l'unica cosa che mi preme è che Zelensky è un personaggio molto sfaccettato ed è per questo che è interessante tra l'altro ho apprezzato anche la scelta della foto dove avete con il questo particolare modello di trizum che è stato scelto che non è il simbolo dell'Ucraina questo qui è interessante perché viene sfoggiato solo in determinate occasioni non l'ho scelto io tutti aspetti molto interessanti Stefano che stanno emergendo rende rende questo libro evidentemente molto interessante e rivelatore anche sì molto perché mi interessava moltissimo un lavoro che approfondisse proprio la la persona per capire il personaggio per capire determinate cose che invece sfuggono appunto nella gestione del governo nei cambi che ci sono stati nel fatto che abbia rifiutato di andare al voto ad esempio che è un aspetto fondamentale del suo carattere della sua storia ecco mi interessa moltissimo poterlo leggere speravo arrivasse qualche giorno fa ma è arrivato solo oggi senti Fulvio le previsioni sono sempre molto ardue questa sfaccettatura questa probabilmente anche intelligenza interprendenza di Zelensky e questi aspetti caratteriali che tu evidentemente conosci avendolo approfondito così bene tanto da scriverci un libro gli permetteranno secondo te di rimanere ancora in sella alla faccia o in spregio diciamo a una situazione che sembrerebbe insomma compromessa e non è mai stata diversamente fin dall'inizio del conflitto è difficile secondo me è difficilissimo prevedere quale sarà l'esito a questo punto nel senso il crollo del fronte un rivolgimento interno in Ucraina non lo so sto dicendo così quello che mi viene in mente senza alcuna pretesa io penso comunque che comunque finisca molto difficilmente Zelensky che è stato il presidente della guerra potrà essere anche il presidente della pace e dico presidente della guerra non a caso perché alla fine del 2021 quindi alla vigilia dell'invasione russa e questo è un altro aspetto di cui non si parla mai il rating in Ucraina di Zelensky era precipitato a livelli minimi gli istituti sociologici di Kiev facevano i sondaggi già sull'ipotesi di elezioni presidenziali anticipate tanto Zelensky sembrava cotto diciamo così no ci fu persino un sondaggio in cui ne parlo nel libro veniva chiesto agli ucraini ai potenziali elettori chi sicuramente non voteresti come presidente in caso di elezioni anticipate e Zelensky era il primo cioè questo per dire com'era la situazione di Zelensky in Ucraina alla fine del 2021 quindi Zelensky è il presidente della guerra è il presidente che ha saputo compattare l'opinione pubblica ucraina darle uno scopo darle un incoraggiamento darle uno slancio per combattere la guerra ma è anche il presidente che la guerra ha ripescato per le orecchie e grazie anche alla sua intraprendenza e al suo coraggio e ha rimesso in sella perché Zelensky a fine 2021 era un presidente finito ora quindi se Zelensky è il presidente della guerra quando non c'è più la guerra io dubito molto che ci sarà ancora Zelensky dopodiché domanda domandone chi potrebbe succedergli adesso tutte le rilevazioni eccetera non da oggi danno come diciamo personaggio più stimato più seguito dagli ucraini l'ex generale comandante delle truppe ucraine Zelensky che adesso è l'esilio dorato dell'ambasciata inglese però appunto bisognerà vedere bisognerà vedere Stefano un'analisi tua conclusiva su questi aspetti molto interessanti sicuramente nel libro c'è tantissimo tantissimo altro no mi ricordavo molto bene del fatto che la popolarità di Zelensky fosse precipitata questo era dovuto al fatto che gli ucraini avevano votato sull'onda emotiva suscitata da una serie tv fondamentalmente loro hanno votato il personaggio che avevano visto nella serie tv il servo del popolo che era poi anche il nome del suo partito se ben mi ricordo e poi si sono trovati che avevano invece un personaggio e avevano eletto un personaggio che era un uomo e non il personaggio della serie tv sebbene interpretasse continua a interpretare una parte anche oggi e siccome la vita degli ucraini rispetto alle aspettative che avevano riposto nella serie tv si scontravano drammaticamente con una realtà che vedeva la loro condizione di povertà rimanere tale e i disservizi del paese rimanere esattamente come prima della sua elezione chiaramente il personaggio si era squalificato velocemente ecco e questo e questo ha causato causò un assolutamente drammatico crollo del suo gradimento solo la guerra solo la guerra l'ha riportato in auge una ultima precisazione non riuscì Churchill che vinse il secondo conflitto mondiale a essere rieletto figuriamoci Zelensky si probabilmente come dice Fulvio Scaglione sarà considerato la figura il politico della guerra e quindi sarà ben difficile se non impossibile che possa sopravvivere a questo o peggio ancora il politico della sconfitta della guerra che si è conclusa la sconfitta con ogni probabilità ci avviamo alla conclusione mi perdonerete ci perdoneranno gli ascoltatori non ormai il tempo l'abbiamo esaurito non possiamo non abbiamo il tempo per venire a parlare del scenario del conflitto e le situazioni in Medio Oriente la tratteremo ovviamente in settimana di certo però ci perdonerete ma di argomenti e di tematiche di informazioni sono state dette tantissime comunque in questa ora del nostro appuntamento siamo in chiusura io ringrazio moltissimo Fulvio Scaglione in bocca al lupro per questo libro che è evidentemente molto interessante grazie grazie Fulvio Scaglione grazie a te grazie a tutti grazie a Stefano grazie grazie a Stefano Orsi grazie Stefano grazie Carlo grazie Fulvio adesso mi leggo velocemente il libro e poi ci sentiamo e poi vi riaggiornate e in bocca al lupo per l'imminente traguardo dei 50 mili iscritti al tuo canale omonimo meno di 400 ne manca meno di 400 bene grazie grazie ancora e grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti